Indancini in corso a Palma di Montechiaro a seguito di una intimidazione, a danno di una struttura ricettiva dove è stato organizzato un neveione di Capodanno. I dettagli! A Palma di Montechiaro, nella zona del castello in Contrada Capreria, ha subito un'altra grave intimidazione, la struttura ricettiva e villaggio vacanza e residence Gatto Pardo. Sul cancello d'ingresso è stato appeso un cartello con la scritta BOOM sotto il disegno di una croce tracciata con una bomboletta spray rossa e poi legato con un filo metallico, un ordigno verosimilmente un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, che è stato prelevato e reso innocuo dagli artificieri dei carabinieri. L'imprenditore di 30 anni che gestisce le residence a sporto denuncia. L'attentato è stato commesso prima della notte di Capodanno. Il veglione organizzato all'interno con centinaia di prenotazioni per volontà degli organizzatori si è svolto regolarmente. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha commentato Condanniamo il vile di inqualificabile gesto e ribadiamo ancora una volta che il bene vince sempre. Ringrazio di vero cuore a nome della città le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno prontamente agito, prodigandosi per ripristinare le condizioni di totale sicurezza. Le istituzioni unite in sinergia agiscono a tutela delle persone oneste e dimostrano la forte presenza dello Stato. Indagini sono in corso per comprendere se l'attentato è stato rivolto alla struttura ricettiva oppure agli organizzatori del veglione. Il villaggio vacanza è stato bersaglio di altri tre attentati già nel periodo in cui è stato in costruzione, ad opera dell'imprenditore Calogero Sodano, 62 anni, componente dell'associazione antiracket Libero Futuro. Il 18 marzo 2021 la prima intimidazione, una raffica di colpi di pistola di medio calibro da 10 a 15, è stata esplossa nottetempo nello stesso luogo contro l'ingresso e il prospetto esterno dell'immobile, sede della Soa Ambiente, una società di Calogero Sodano che opera nel settore dei rifiuti. Poi il 21 luglio 2021 la seconda, Sodano scoperto in ansia all'ingresso la testa di una pecora trafitta da un proiettile. Poi il 14 febbraio 2022 la terza, ancora Sodano ha rinvenuto la carcassa di una gallina con la testa mozzata e sviscerata. Un dirigente della stessa associazione antiracket Libero Futuro il 12 dicembre del 2020 ha subito un atto intimidatorio. Sul parabrezza della sua automobile ha raccolto due cartucce e una croce. E poi il già presidente di Libero Futuro, l'imprenditore di Porta Empedocle, Gernando G. Bilarro, 42 anni, è stato nel mirino il 4 febbraio del 2022 quando incontrato a San Calogero Napolitano a Porta Empedocle sono stati spaccati i vetri delle cabine dai mezzi meccanici, forzato l'ingresso blindato dell'ufficio e devastati gli arredi della Beton Calcestruzzi, di cui è titolare G. Bilarro, che ha sempre ribadito. Negli ultimi anni i mafiosi agrigentini, con i soliti metodi vili e agendo nottetempo, hanno realizzato vari atti intimidatori con minacce di morte indirizzate a dirigenti e imprenditori della nostra associazione. Le intimidazioni naturalmente non hanno mai ottenuto il risultato sperato e al contrario la nostra azione di promozione della denuncia a fianco delle forze dell'ordine si è sempre intensificata. Pertanto ci rivolgiamo ai tanti imprenditori che ancora non trovano il coraggio di denunciare le richieste o le intimidazioni mafiose di seguire il nostro esempio, di denunciare senza indugi, unendosi a noi sempre più numerosi. Ci rivolgiamo anche a tutti i cittadini chiedendo loro di sostenerci in questo scontro con i mafiosi, aiutandoci a liberare la nostra economia dalla loro ingerenza parassitaria.